Diamo inizio a questo convegno di studio e porgo i saluti del magnifico rettore professor Ruricchio, non è presente perché è impegnato a Roma e gli auguri di buon lavoro. Questo convegno di studio si rientra nell'ambito del master in etica della pace, educazione, diritti umani ed inclusione, di cui sono coordinatore. Ringrazio innanzitutto Sua Eccellenza Monsignor Santopper che ci hanno orati della sua presenza. Poi il professor Massimo Borghesi che ci ha dato l'opportunità, questa bella opportunità culturale, di discutere su un uomo che ci fa riflettere, su un sacerdote che ci fa riflettere. Il magnifico rettore professor Di Sciascio e il professor Costantino Esposito che ringrazio per aver accettato questo invito. Ecco, io ho una breve riflessione su Don Giussani. Don Giussani è un testimone del nostro tempo, ma soprattutto tre tratti caratterizzano la figura di Don Giussani. Praticamente la passione per la bellezza, avere a cuore i giovani e poi l'attenzione ai gesti quotidiani. Ecco, vorrei solo un attimo soffermarmi su questi tre aspetti perché Don Giussani affermava che se la bellezza è lo splendore del vero, è anche vero che il gusto estetico è la modalità come l'uomo percepisce il vero. Questa passione è stata una costante della sua vita. L'altra è stata la passione per i giovani e in questo diciamo che c'è una certa affinità con Papa Voitiva con il quale ha intessuto anche una corrispondenza epistolare molto particolare dal 2002-2004. Sono due personaggi del nostro tempo che fanno riflettere soprattutto perché vengono accomunati da queste tre caratteristiche. La passione per la bellezza, l'attenzione ai giovani e l'attenzione ai gesti quotidiani. Ecco, i gesti quotidiani perché se Dio è il verbo che si è fatto carne, dice Don Giussani, allora anche la verità praticamente si è fatta carne, la bontà si è fatta carne, l'amore si è fatta carne. E lui ha avuto la passione per questi giovani e soprattutto per questi gesti quotidiani perché affermava che il valore per essere tale deve essere incarnato, deve essere storicizzato, altrimenti non è. E mi viene da pensare a questo punto a una bellissima opera che consiglio ai giovani di leggere, Persone e atto, di Voitiva, dove Voitiva afferma esplicitamente che la persona si rivela attraverso gli atti che compie. Lo stesso pensiero di Don Giussani, quindi una comunità, un'affinità culturale di pensieri, di temi che praticamente rappresentano, diciamo, una sfida per il nostro tempo e penso che questa sfida etico-educativa potrà essere vinta a condizione che noi attingiamo al pensiero, all'opera di Don Giussani, di Giovanni Paolo II, dello stesso Don Milano e Don Primo Mazzolari sono personaggi che hanno testimoniato e loro amavano la testimonianza, avevano a cuore i giovani, anzi Don Giussani diceva che la mia vicenda è quella di tanti che per grazia di Dio comunichiamo ai giovani certezza e affettività che altrimenti sarebbero incapaci. E qui mi viene da pensare all'aiker di Don Milano. Penso che i relatori approfondiranno molto meglio di me tutti questi tratti. Io ringrazio tutti i presenti e passo la parola a Sua Eccellenza. Allora, incominciamo con un momento di canto. Grazie. 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 Il saluto è il magnifico rettore del Politecnico di Bari, professore Eugenio Di Sciascio. Per l'occasione si rimetta la giacca, diciamo così. Porto il saluto ovviamente del mio personale, del Politecnico, per questo incontro. Dico veramente due parole soltanto. Ecco, chi abbia vissuto, anche se per un periodo, l'esperienza del cammino, della sequela con Don Giussani, sa che siamo feriti dalla bellezza, ma soprattutto siamo feriti da una ferita che non si rimargina. Cioè siamo feriti comunque da una compagnia, da una presenza che resta nel tempo. al di là del tempo che passa, al di là delle facce di alcuni che rivedo dopo tanti anni. Esattamente questo, quello che almeno per me resta. Resta il sapere che è un cammino, quello proposto da Don Giussani, è un cammino vero, un cammino intelligente, un cammino che in qualche modo ci consente anche oggi, in un momento, vedete, oggi è tutto vero ed è tutto falso, ugualmente. Noi viviamo esattamente in una condizione in cui ogni mattina ciascuno dice qualcosa. Come dico sempre ai miei studenti, voi non credete più in Dio, ma credete a Wikipedia, anzi, alla prima pagina di Google, perché è questo quello che succede. Ci resta soltanto una testimonianza vera. E questa è la prima cosa, perché io mi ricordo sempre una frase che ho sentito a suo tempo, proprio da Don Giussani, ed era una frase che diceva che vorrei che i cristiani avessero faccia di gente salvata. Ecco, Don Giussani aveva la faccia di una persona salvata, aveva una faccia di una persona che diceva delle cose che avevano un senso. E soprattutto ti ricordava ogni giorno che, adesso appunto, come al solito, la memoria non è un gran che, che tra le vicende del mondo bisogna guardare sempre là dove la vera gioca. E questo è un segno, è un segno che resta. Quindi la figura di Don Giussani non è un ricordo, è una presenza sempre attuale ed è importante capire che quel cammino è ancora una possibilità, una possibilità di bellezza, cioè di vivere una vita con un senso. Lo dico in particolare per quanto sono stato studente universitario, perché è stato, pur avendo fatto gli esami tutti in regola, anzi non in contraddizione, è stata la possibilità di fare una esperienza in più, di vivere un centuplo qua giù, davvero, in un momento della propria vita. E quindi vi ho detto due parole che non sono le parole del Rettore, sono le parole di Eugenio che molti di voi conoscono. Buon lavoro e sono sicuro che sarà una bellissima... Allora abbiamo pensato di organizzare questo momento in questa modalità. Adesso io farò una piccola introduzione di cinque minuti, dopo di che invitiamo a parlare il Professore Esposito, che tra l'altro, come molti di noi, ha conosciuto Don Giussani e conosce il suo pensiero, non soltanto il suo pensiero. E poi la parola a Monsignor Sua Eccellenza Filippo Santoro. Poi chiederemo a Massimo Borghesi, che abbiamo voluto che fosse presente con noi, di darci qualche indicazione di questo libro, che non è un unico strumento. Si aggiunge a tanti altri libri che sono stati scritti, ma in particolare dirà il Professore perché questo libro ha delle novità. Dopodiché ci sarà la possibilità di ascoltare questo concerto, Feriti dalla bellezza, che rientra proprio nel tema che noi stiamo trattando. Dunque, sono passati dodici anni dalla morte di Don Giussani, che è stato uno dei protagonisti della vita spirituale ed ecclesiale della seconda metà del XX secolo. La sua testimonianza e il suo metodo educativo che ha consentito e consente tuttora, anche oggi, di incontrare innumerevoli giovani in tutto il mondo. Fa di lui, alcuni lo hanno definito, novello Don Giovanni Bosco. Il volume di Massimo Borghesi, dal titolo impegnativo, perché è abbastanza, diciamo, da assimilare, Luigi Giussani, conoscenza amorosa ed esperienza del vero, un itinerario moderno, edito dalla casa editrice di Bari, edizione di Paglia, che sta lavorando molto bene, mette a fuoco questo testo per la prima volta il pensiero di Giussani, la sua prospettiva ideale, il timbro teologico, esistenziale, evangelico, che lo caratterizzava. Pur essendo passati tanti anni dalla scombarsa di Don Giussani, i tanti amici che sono sparsi nel mondo, vi rammento che il movimento è presente in 92 paesi di tutti i continenti del globo, che seguono l'esperienza educativa del suo movimento, i numerosi testi che sono stati scritti su di lui, dimostrano che la sua avventura educativa e il suo invito a riscoprire la bellezza inesplorata della tradizione cristiana non sono destinati a scomparire. Come dice bene Borghesi, il segreto del successo di Don Giussani con i giovani è l'aver posto l'accento su Cristo, sull'incontro cristiano, aperto a chiunque e non innanzitutto sui valori cristiani. Già nell'82 Giussani scriveva profeticamente fino a quando il cristianesimo è sostenere valori cristiani, esso trova spazio ovunque, ma quando il cristianesimo è annunciare nella realtà quotidiana, sociale e storica la presenza permanente di Dio diventato uno di noi, Cristo, presente nella sua Chiesa, allora esso non ha patria. Ecco, noi abbiamo organizzato questo momento in cui è interessante sentire il pensiero di tutti quelli che parleranno proprio per capire quali novità e di quale contenuto sono riverbero il carisma e la forza, l'impeto di Don Giussani per aver prodotto tanti effetti positivi che non si può più farli perché corrispondenti con le esigenze più vere e profonde del cuore di ogni uomo. Molti si chiedono, anche noi stessi, se il suo pensiero, la sua prospettiva educativa siano ancora attuali. Ricordo che il professor Borghesi dedica un capitolo a questo tema. Storicamente Giussani ha intercettato due generazioni di giovani, molto diverse tra loro, quella studiosa del dopoguerra e quella contestataria del post-68, molto ostile verso la religione. La sua attualità sta nel percepire alla fine degli anni Sessanta che la tradizione cristiana si è consumata, era stata spazzata via al pari, mi permetterei di dire, delle lucciole di pasoliniana memoria. Senza attardarsi in inutili rimpianti, Don Giussani, forte di questa constatazione, invitava i suoi giovani a confidare interamente nella testimonianza, nell'incontro. Don Giussani, il suo merito è stato quello di aver riscoperto delle parole tipiche cristiane, cioè l'incontro, l'avvenimento in un cristianesimo essenziale che non confidava nel potere. Il modello era quello del cristianesimo dei primi secoli, infatti di ritorno da un viaggio in Terra Santa, Don Giussani era molto colpito dell'umanità che aveva evocato andando in Terra Santa, al punto che disse, arrivato in Italia, come duemila anni fa bisogna ricominciare dall'incontro umano, come è stato umano l'incontro di quelli che si sono imbattuti nella figura di Gesù. E per finire, passare poi la parola a Costantino che sicuramente tracerà. Lui per la verità non voleva accettare di parlare in presenza anche di Massimo che è autore di questo libro. Noi abbiamo insistito per la profondità anche della sua conoscenza di Don Giussani e quindi prima di passargli la parola vorrei che ci domandassimo dietro un impeto missionario e educativo come quello di Don Giussani che cosa si può scorgere perché solo la risposta a questa domanda può aiutarci a capire di più dell'esperienza del movimento. Don Giussani dirà quello che cona e finisco con questa frase quello che conta nella vita della Chiesa di oggi è la vivezza della fede rinnovata non un potere derivato dalla storia da una istituzione che si è affermata. Ciò che conta è realmente che la vita cominciata in Maria e Giuseppe Giovanni e Andrea sia come accesa nel cuore della gente e la folla aiutata ad un incontro incidente sulla vita così come avvenne alle origini del cristianesimo. Don Giussani non ha aggiunto nulla a ciò che la Chiesa rappresenta anzi ha umilmente senza entrare mai in contrasto con la gerarchia cattolica ha proposto semplicemente il centro del cristianesimo e cioè che questa bellezza di cui l'uomo va alla ricerca si è fatta carne verbum carum est carum factum est è solo questo che ha creatato il successo di Don Giussani e continua ancora in questi anni attualmente perché l'esperienza è presente ovunque. Io penso che dobbiamo fare una meditazione su questo e poi un piccolo consiglio che vi do comprate questo libro perché vale la pena leggerlo io sono stato quasi costretto a leggerlo però ne vale la pena perché racconta semplicemente come è difficile che oggi il professore possa fare quelli che sono i passaggi salienti di un'esperienza grazie Costantino è chiamato al podio io in effetti avrei voluto ascoltare Massimo e porgli delle domande però dico subito questo che questo libro è prezioso perché ricostruisce storicamente il pensiero di Don Giussani cioè fa vedere che il pensiero cioè l'esperienza di Don Giussani è interessante quando Giussani nei primi tempi parlava della sua opera dell'opera del movimento lo chiamava il nostro pensiero non per intellettualizzare ma per dire come l'esperienza per lui e appunto questo è il cuore del libro di Massimo Borghesi l'esperienza non è mai qualcosa di soggettivistico di confuso ma al contrario è un rendersi conto di ciò che c'è di rendersi conto di ciò che c'è a partire dal proprio cuore e da ciò che c'è nel mondo e questo libro dicevo ricostruisce l'esperienza cioè il pensiero in senso forte di Don Giussani non come una serie di diciamo filosofemi cioè di verità diciamo fuori dalla storia ma mostrando siano state per lui un percorso cioè le abbia scoperte le abbia guadagnate sempre essendo quello che gli succedeva cioè quello anche il suo contesto la realtà la crisi delle generazioni l'indebolirsi di una tradizione il rinascere nel nichilismo di una domanda di verità di una nostalgia di felicità poi magari basta anche perché non viene così basta così grazie mi scusi e dunque lo presenta come un percorso storico ma questa è la cosa interessante io ritengo che sia interessante perché è stato per la perizia di Morghesi per la sua anche il suo il suo talento nel trattare di questi temi ma anche per l'oggetto che ha trattato e cioè che ricostruendo storicamente per esempio le tre diverse edizioni del religioso io vi dico solitamente perché vale la pena leggere questo libro quindi non spiegherò tutte le cose dalla metà degli anni 50 fino agli anni 80 che cosa di volta in volta diciamo si approfondisce il rapporto con la lettera l'enciclica scusate la lettera pastorale dell'allora arcivescovo di Milano Montini sul senso religioso quindi fa vedere come nascono queste cose ma facendo vedere questa evoluzione storica è un pradosso ci fa capire cosa c'entra con noi oggi l'esperienza e il pensiero di Don Giussani capite questa è la cosa interessante del libro che in qualche maniera si ritrova anche nel libro pubblicato due anni prima da Alberto Savana vita di Don Giussani cioè che quanto più si colloca Don Giussani nel suo tempo tanto più si capisce il nostro tempo il nostro tempo è cambiato appunto non sono i giovani studiosi ma sono i giovani ribelli e dopo potremmo dire i giovani nichilisti postmoderni quindi le condizioni sono cambiate ma dalla storia nasce una scoperta e quindi anche un metodo che leggendo il libro viene voglia di fare noi di verificare noi perché coglie le radici la crisi del nostro tempo un'altra cosa che volevo dire è che questo libro il suo titolo cioè che il titolo veramente fa capire di cosa si tratta è un titolo secondo me molto bello fatto di tre di tre step conoscenza amorosa cioè che conoscere il mondo e sé non è mai un'analisi ma è sempre un essere in gioco noi e che noi possiamo conoscere solo se siamo feriti ma questo io credo che valga non soltanto per chi fa la nostra professione anche io faccio la professione di massimo borghesi cioè siamo dei professori di filosofia all'università ma anche per il magnifico e amico eugenio di sciascio che magari fa delle cose che sembrerebbero non ci fosse tra virgolette umanistiche ma si conosce veramente questo non vale per don giussani o per la fede cristiana vale per ogni conoscenza si conosce veramente quando tu capisci anche cose diciamo assolutamente tecniche o per sembrare sofisticati astratte non esistenziali o psicologiche o antropologiche cioè la conoscenza si realizza io capisco veramente il mondo quando sono boccato quindi la conoscenza amorosa come diceva sempre Giussani è un affetto cioè sono colpito da quello che voglio conoscere e perciò lo capisco di più perché non lo inquadro i miei mentali ma cerco di capire a che cosa mi invita e poi il secondo pezzo del titolo conoscenza amorosa ed esperienza del vero è una cosa ostiniana è tomista insieme Massimo Borghesi fa vedere molto bene che da una parte il giovane Giussani riprende tutta la tradizione del realismo tomista più che neotomista proprio tommasiano di Tommaso cioè questa attenzione dura dura nel senso buono ostinata ai dati alla realtà no a quello che ci dice ma al tempo stesso molto attento alla grande istanza agostiniana ricordo una volta Massimo ricorderà benissimo Giussani fu chiesto appunto se dovesse scegliere tra i grandi input della grande tradizione teologica no don figlio di questo tra Tommaso e Agostino lui ha detto ma secondo me il meglio sarebbe la sintesi ma se proprio dovessi sceglierei Tommaso perché per questa assoluta felta all'essere ai dati no proprio perché l'idea è che è la realtà che si impone dobbiamo capire appunto come si impone il vero attraverso e questo è appunto il passo in più sia rispetto al rismo un po' dogmatico a livello teologico dei neotomisti sia rispetto ad una riduzione dell'agostinismo in chiave di interiorità o di coscienzia cioè di riduzione ad un'esperienza interiore della imponenza del mondo e questo ovviamente questo libro fa capire benissimo quindi leggetelo per questo non fosse altro che per questo poi ci sono molte altre cose cioè che la verità la può capire non definendola bisogna anche definirla è utile definirla si può capire che cosa è la verità solo se se ne fa esperienza cioè ancora una volta se il vero tocca l'io tocca il soggetto e io posso scoprirlo perché poco o tanto e perché è un percorso la verità mi conquista mi tocca e lo direi con parole mie che la verità non è mai un assoluto ma un accaduto qualcosa che accade e accadendo la verità non accade mai senza di me no senza ciascuno di noi quando la verità accade che maniera attende che un'intelligenza la riconosca e così ma non è semplicemente a livello di teoria filosofica anche se mi perdonerete secondo me le teorie filosofica sono le cose più concrete che esistano anche se molti faranno difficoltà a pensarlo perché dicono il modo con cui uno che anche non ha mai studiato filosofia si rapporta al mondo a sé ma questo è interessante perché anche nello sguardo ai nostri figli al nostro lavoro alla malattia alla nostra storia al nostro paese politica alla chiesa a tutto alla persona amata o odiata il punto è se noi siamo disponibili a dare una possibilità alla realtà di manifestarsi cioè di farci capire la realtà che è vera ma questo è possibile per non essere un'ideologia che uno ti viene a dire ti dico io cos'è la verità solo se la verità è una scoperta grazie all'attenzione all'esperienza dell'io infine terzo pezzo del tipo un itinerario moderno no e questo è diciamo anche il pepe di questo libro no credo anche il motivo più graffiante per cui Massimo Borghesi lo ha scritto per sottolineare una cosa che ad un attento lettore di Don Giussani e soprattutto ad un attento lettore dell'esperienza del movimento che è nata con tutto quello che significa con la storia anche del movimento con le riduzioni interne esterne con tutto quello che è una realtà interalmente umana in cui c'è una traccia del divino come la chiesa lo riconoscerebbe questa modernità ma sta di fatto che per un certo periodo della nostra cultura della nostra stagione culturale Don Giussani è stato presentato in maniera assolutamente fantomatica come un autore reazionario o antimoderno no ma la cosa più interessante è che leggendo Don Giussani e quindi anche leggendo questo libro la modernità di Don Giussani è qualche cosa che non soltanto va ribadita per onore della storia no ma perché può aiutare noi oggi per tanti la modernità è finita si dice siamo nell'epoca post-moderna e poi cosa vuol dire che i grandi temi della modernità il soggetto l'io la razionalità no la libertà della scelta sono molto in crisi io mi piacerebbe dirvi come il colloquio con alcuni dei miei studenti primo anno di filosofia che spesso mi dicono proprio l'altro giorno ad una pena alla fine del corso una studentessa mi ha detto ma io ho capito che in fondo la libertà è un'illusione non esiste perché noi siamo solamente determinati dalla natura dall'educazione dei genitori dalla chiesa dai partiti dalla società ma sì ci piacerebbe essere liberi perché dico questo perché è diciamo una una notazione così molto impassante per dire per dare come una spia di cosa vuol dire il post-moderno o l'epoca del nichilismo o come Massimo Borghese lo chiama della secolarizzazione realizzata cioè i fondamenti della modernità sembrano andati in crisi no la razionalità lo diceva prima il genio di Sciascia sembra che tutto sia vero ma possa essere falso no in realtà la sua battuta era già di un padre della chiesa di Ambrogio che non parlava di Wikipedia ma siamo lì di quando diceva coloro che non credono nell'unico signore non è che non credono niente ma credono a tutto no cioè e quindi credono anche a ciò che è falso e bene in questo momento paradossalmente sottolineare la modernità di Don Giussani non è semplicemente un dargli quello che gli spetta e dire guardate che Don Giussani era assolutamente moderno ma è un aiuto nel nostro presente a salvare è un paradosso Ratzinger lo diceva della chiesa che l'esperienza cristiana è il vero illuminismo ma nel nostro piccolo a capire che proprio la razionalità il valore della libertà il valore della soggettività grazie ad un'esperienza di pensiero come quella di Don Giussani può essere salvaguardata ancora oggi e permettetemi per finire di citare soltanto tre piccolissimi spunti uno di questi spunti anche per mostrare che ho letto il libro non era solamente una sintesi così sapendo già c'è nel nel capitolo che si intitola come duemila anni fa che appunto si tratta della dinamica del senso religioso nel rapporto con la fede e si dice una cosa tra le tante altre bellissima sulla alcune domande che sia Scola che il Monsignor Sicari in due interviste avevano rivolto a Don Giussani circa la cosa viene prima il senso religioso sappiamo che il senso religioso è appunto una delle opere più moderne del pensiero del nove o la fede e Giussani dice di schianto viene prima la fede cosa vuol dire viene prima l'incontro cioè tu ti devi imbattere con una realtà umana nuova diversa che ti testimonia la presenza di Cristo che soltanto questo ti fa emergere le tue vere domande che tu c'hai ma tante volte non ti accorgi però anche questa risposta è come dice la pagina 81 Don Giussani tuttavia non è matematico cioè non è uno schema allora prima il senso religioso prima l'incontro poi la domanda o viceversa ma è un'esperienza che accade sempre in maniera imprevedibile infatti in questo passaggio Giussani dice bisogna per prima cosa far sentire alla gente la propria insoddisfazione cioè prendere sul sé ditemi se non è moderno no un antimoderno direbbe la tua insoddisfazione perché non hai capito e perché non segui la legge e allora ti ti incastri invece lui dice no no mi interessa la tua insoddisfazione perché bisogna partire dall'insoddisfazione no è un aspetto negativo dice Giussani che può essere premessa ma nel gioco vivo una volta stabilita l'insoddisfazione è l'offerta di una risposta che fa percepire la domanda inerente all'insoddisfazione questo è lo sguardo moderno di Giussani cioè guardare l'insoddisfazione non per farla fuori non per risolverla o per condannarla ma per penetrarla cioè per far capire come nell'insoddisfazione c'è una domanda tante volte non cosciente che proprio l'incontro col fatto cristiano fa venire fuori secondo spunto esemplificativo e quando si parla nella parte intitolata unità e distinzione la questione dell'integrismo no ricordate appunto Massimo Borghesi lo ricostruisce molto bene da par suo perché lui è anche molto studioso di queste cose al di là della presenza di Giussani della storia anche del dibattito interno alla tradizione soprattutto cattolica soprattutto italiana e francese no la polemica tra i cattolici della presenza i cattolici della mediazione con Maritain contro Maritain eccetera azione cattolica CL FUCI e qui attraversando questo percorso anche con tutti i suoi stracichi polemici le sue incomprensioni Massimo Borghesi fa capire bene come Giussani capisca a volte in maniera come dire anticipatrice anche rispetto alla storia del movimento di comunione e liberazione ma capisce da subito che il problema è un problema di libertà non e cioè che la presenza non è innanzitutto un'utopia non è innanzitutto una egemonia ma è un accanito salvaguardare spazi di libertà di tutti e questo non è come un cavallo di Troia è come dire parliamo della libertà per salvaguardare le nostre cose nostre del movimento nostre della chiesa eccetera ma è seguendo anche alcuni documenti del concilio Vaticano II che Don Giussani capta in maniera profetica e molto precisa il problema è veramente garantire la libertà di tutti non tanto la libertà dei cattolici semplicemente perché questo è una sincera intenzione una sincera passione che coincide con la testimonianza e da ultimo vorrei appunto dire questo che nelle pagine di questo libro si capisce sempre che Don Giussani è stato uno un po' come Sant'Agostino cioè o anche Tommaso qui c'è una mia amica che studia Agostino con cui sempre ne parliamo cioè tu capisci Agostino capendo tutte le polemiche che ha avuto cioè come lui ha accettato la sfida dell'epoca e ha capito ma non per fare la polemica non perché erano roppiballe scusate ma perché ha capito che la testimonianza cristiana in qualche maniera deve come assumere il dramma di un'epoca e ricordare sempre ciò per cui vale la pena e quello che qui è interessante il terzo e l'ultimo spunto è che l'origine della presenza è che si ridesti l'io che si ridesti il soggetto e soprattutto Massimo lo ridice quasi ad ogni pagina che il cristianessimo possa di nuovo diventare attrattivo attraente questa è la ferita della bellezza no? ma questa attrattività non è mai un mero estetismo questa attrattività è il lavoro più impegnativo è il lavoro della libertà perché quando ci si accorge che quella presenza che si è fatta incontrare chiede di me quindi aspetta il mio sì e anche il mio coinvolgimento allora tutto cambia e ogni espressione può diventare una possibilità di scoperta della cui siamo al mondo volevo ringraziare Massimo per aver scritto questo libro e invitarvi a leggerlo grazie 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 Costantino Monsignor Santoro bene puoi parlare a me posso buonasera a tutti un caro saluto a Massimo a Costantino e al magnifico a chi è già intervenuto e volevo dire che è indispensabile un momento come questo perché il lavoro fatto da Massimo Borghesi ci fa andare a fondo del problema della proposta di Don Giussani analizzandola dal punto di vista dell'esperienza della conoscenza ma anche dei contenuti culturali più profondi del nostro tempo modernità post modernità in una maniera originale a dire il vero tra le biografie che sono state scritte questa fa un affondo culturale filosofico e anche teologico notevole di grandissimo spessore che secondo me ci aiuta aiuta tutti quanti e io vorrei partire dall'attualità per sviluppare il mio il mio giudizio e le mie osservazioni sul libro sul contributo che Don Giussani ci ha dato due giorni fa Papa Francesco ha visitato i luoghi in cui sono vissuti Don Primo Mazzolari e quando io sono andato a studiare a Roma Don Milani e Don Mazzolari erano i grandissimi punti di riferimento bastonati in quell'epoca ma per gli studenti ero studente proprio in quegli anni dal 67 in avanti sono andato e erano il punto di riferimento culturale e posso dire abbiamo pure la banda che ci e posso dire che l'esperienza di Don Milani costituiva una ricchezza straordinaria per capire ancora di Don Milani per capire chi è un educatore ti faceva capire chi è un educatore uno che vuole fare sviluppare particolarmente nei ragazzi nei giovani poveri l'umanità e particolarmente la conoscenza quindi uno che ti fa capire chi è l'educatore Don Primo Mazzolari era uno che ti fa capire chi è il parroco il sacerdote colui che è nella chiesa porta l'annuncio di Gesù ai più bisognosi porta l'annuncio della salvezza ai più poveri quindi chi è il ministro il ministro della chiesa è il ministro di Gesù tanto che nell'uno e nell'altro c'è una piena ortodossia e c'è una originale presa di posizione di fronte ai problemi più caldi del momento che servono ancora oggi ricordo che Don Giussani diceva di Don Milani sottoscrivo tutte le parole che ha detto quindi non c'è nessuno pienamente e quindi uno fa conoscere chi è l'educatore e l'altro fa conoscere chi è il ministro di Dio l'incontro con Don Giussani per me e per molti di noi a questa a questa scoperta dell'educatore e del ministro di Dio aggiunge scava diciamo dentro queste due ricerche aggiunge una cosa fa capire chi è Gesù non è poco fa capire chi è Gesù cioè fa capire che c'entra l'annuncio che la Chiesa fa da secoli con le domande del mio presente il grande problema perché il grande problema dell'annuncio è che da un lato abbiamo la ripetizione teorica del messaggio il contenuto dogmatico e quindi le forme schematiche di riproporre il passato anche attraverso l'associazionismo cattolico e le varie altre esperienze una dottrina una teoria dei riti delle celebrazioni delle indicazioni morali e quindi tutto un blocco che sottolinea il contenuto della rivelazione dall'altro lato io come studente mi trovavo tutte le domande del 68 a parte il fatto che ero proprio a Roma a Valle Giulia e altri momenti che si sono sviluppati pur essendo in seminario facevamo le nostre scappatelle in questo senso cioè di partecipare per quello che era possibile tutte le domande e le domande in quell'epoca erano le domande umane e le domande di autenticità le domande di piena realizzazione della vita le domande di significato sull'affettività sulla politica su qualcosa di autentico rispetto all'establishment ecclesiale politico e culturale quindi una domanda domande di questo tipo ecco da un lato noi avevamo il contenuto della rivelazione dall'altra l'antropologia quali sono gli estremi in cui noi ci troviamo tra una ripetizione teorica e molto spesso rituale e moralistica del contenuto della fede e una antropologia che esclude dal suo orizzonte che esclude dal suo orizzonte una risposta più grande che è l'infinito che il mistero possa venirci incontro e possa raggiungerci quindi una visione umana chiusa in se stessa che poi col passare del tempo col cadere delle domande della modernità come ha detto Costantino si è spappolato ulteriormente ed è rimasta la pura istintività che a sua volta è dominata dal potere del momento quindi in questa situazione tra una ripetizione meccanica dei contenuti e una antropologia chiusa in se stesso Don Giustani come dice Costantino come dice Massimo è pienamente moderno cioè accoglie la sfida perché lo sentivo io andandolo ad incontrare io innanzitutto l'ho invitato a predicare un corso di esercizi al Capranico dove studiavo e mi ricordo che dopo ogni meditazione gli facevo le domande e poi dopo facendola cattolica andandola a sentire alle sue lezioni era l'umanità era presa sul serio le domande erano prese sul serio non erano condannate anche quelle sballate tant'è vero che stando a Milano non mi facevo mancare l'opportunità di andare a teatro a sentire Gaber e altre cose del genere perché era la sensibilità nostra che sentivo che era presa sul serio allora l'opera che Massimo fa in questo testo è proprio mostrare la piena modernità ma soprattutto al di là di modernità e postmodernità come è possibile una antropologia cioè l'attenzione alla fame e alla sete torna su riento che abbiamo sentito prima e quante volte ci siamo sorpresi a commuoverci di fronte a questa nostalgia straordinaria torna su riento e io quando sento questa canzone quando ero in Brasile mi ricordavo dell'Italia quando sto in Italia mi ricordo il Brasile quindi è proprio sentire che gli incontri non sono passati in vano e non passano in vano ma è proprio l'umanità presa sul serio abbracciata e il lavoro che Borghese si fa da par suo con un rigore un rigore filosofico e teologico anche ci portano nel vivo della questione umana della conoscenza della conoscenza amorosa e quindi della domanda e della risposta della domanda e della risposta allora c'è un interlocutore primo di tutta la vicenda che è il nostro cuore ma se non c'è l'apparire di una risposta e poi la risposta che diventa compagnia stabile uno si perde perché tante risposte ci sono tanti bagliori ci sono nella vita ma ci vuole una risposta che diventa compagnia stabile al quotidiano e alla vita ecco l'affondo che Massimo fa è di dire come la proposta di una risposta non svuota la domanda non distrugge la domanda ma la nobilità e allora io che sono ho fatto filosofia ho fatto teologia teologia e filosofia insieme dico dal punto di vista filosofico noi abbiamo le grandi domande che ci toccano e dal punto di vista teologico il porsi di una risposta il porsi della risposta come quello che Don Giussani ha fatto è superare la contrapposizione è superare la dialettica è fare una sintesi di questi due momenti ma non a livello di riflessione accademica ma a livello di incontri umani e di esperienza già la scelta di lasciare l'insegnamento della teologia e di andare a insegnare al berce significa che io voglio stare di fronte alle domande dei giovani e mi faccio provocare da loro e la novità non è data come un pacchetto all'inizio la novità cade mentre io mi faccio provocare dalle domande non ne lascio cadere una anzi sfido tutti quanti a vedere se le risposte che vi danno sono giuste o se sono sbagliate senza considerarne senza eliminarne nessuna e quindi in questo itinerario io identifico Costantino ha fatto l'affondo sulla conoscenza amorosa quindi non ripeto il passaggio fatto ci tornerò dopo ma soprattutto un momento in cui Massimo dialoga con la teologia e in particolare e in particolare diciamo con il teologo Karl Rahner che è il maestro dei teologi del mondo il maestro del passato finché attraverso Don Giussani e altri noi abbiamo conosciuto Von Balthasar abbiamo conosciuto De Lubac abbiamo conosciuto altri per cui quella cosa anche in me studente si è si è incrinata è stata affrontata criticamente ma qui si pone quella rivelazione e domande umane negli stessi termini la questione che Costantino ha posto come senso religioso è fede allora è chiaro e io pongo alcune domande a cui Massimo può rispondere e approfondire è chiaro che c'è una ripresa della categoria del senso religioso come l'ha elaborata il Cardinal Montini nella lettera succitata il Paolo VI perché proprio sintesi dello spirito umano sintesi del dinamismo umano allora in questa che cosa fa Paolo VI ripiglia la sete la fame di vita di verità e di bellezza che ogni persona ha la riprende e Don Giussani cosa fa non solo la descrive ma ti fa vedere negli incontri con i ragazzi negli incontri con i giovani come questa questa fame questa sete agisce come la curiosità naturale si sviluppa come questa domanda è una domanda come come dandogli la polpa delle domande che che Pavese che Leopardi pone in piedi costituiscono l'umanum nella sua integrità l'umanum nella sua integrità che è il senso religioso non un senso religioso particolare un umano pieno la domanda la domanda grande allora la 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 mia affermazione è che Don Giussani riprende e approfondisce il itinerario specifico messo in piedi dal Cardinal Montini con questa originalità esperienziale con un affondo esperienziale con un'esperienza mai facendola diventare un discorso ma noi dalle prime pagine del senso religioso sentiamo la provocazione fatta alla nostra vita è come se si definisse l'introduttore non una umanità generica ma un'umanità come ce la ritroviamo noi come me la ritrovavo io come ce la ritroviamo tutti quanti un'attenzione allora dico è debitore a a a a Montini ma ne sviluppa in modo originale tutto un percorso un percorso molto ampio e molto e molto interessante un secondo punto è la questione tra senso religioso e fede con questi altri due termini senso religioso e avvenimento senso religioso Costantino ha già spiegato ed è chiarissimo cos'è che Don Giustani a partire fino agli anni questa questa intervista di scuola a a Don Giustani è verso la fine degli anni 80 per la rivista Comunio allora cos'è che accade in quel momento accade la la forma esplicita in cui si dice l'originalità è data dalla risposta la risposta fa emergere tutta la ricchezza della domanda però anche la risposta lo metteva bene in luce Costantino non è una formula ma è l'invito a percorrere l'itinerario della conoscenza la risposta fa svegliare e attiva il senso religioso perché molte volte la domanda può essere viva ma l'annuncio di Cristo è per tutti anche chi avesse una domanda pallida perché la domanda è costitutiva dell'essere perciò in 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 questa dinamica si può dire così che la risposta precede la domanda la risposta di Don Giussani precede la domanda perché noi ci siamo svegliati dopo l'incontro prima dell'incontro vivevamo la domanda senza capirne la portata io mi ricordo che dopo i primi incontri questa esperienza dell'infinito a cui avevo pensato teoricamente e che i miei professori della Gregoriana avevano descritto sia filosoficamente che teologicamente con Don Giussani è stato possibile che io di quell'infinito facessi esperienza quindi l'avvenimento è quando una verità si fa carne si fa esperienza possiamo farne esperienza ne abbiamo fatto esperienza lungo tutti questi anni perciò la precedenza dell'uno verso nei confronti dell'altro e questo metodo della priorità in un mondo totalmente secolarizzato nella secolarizzazione compiuta è come l'intervento che ha dato l'originalità specifica della proposta di Don Giussani il fascino di una presenza che rende possibile il mio sì il consenso come qualcosa che dà luce a tutta l'esperienza della vita come qualcosa che illumina tutti i passi della vita e io ora scendo un po' nel più specifico della differenza tra Don Giussani e Karl Rahner qui mi dovete perdonare se vado a qualche sottigliezza teologica anche Karl Rahner prende in considerazione la sfida della modernità dicendo che la condizione umana è la condizione di un uditore della parola l'esistenza in attesa di una parola che gli spieghi la vita che gli spieghi tutto che gli spieghi il cammino quindi termini simili ai nostri però c'è un fatto quando deve coniugare filosofia e teologia Karl Rahner usa una categoria di cristologia trascendentale cioè nell'umanità nella domanda ci sta già tutta la risposta nella domanda nel forgriff come dicono loro qui i filosofi ci sta tutta la risposta già compresa se fosse e quindi ogni opera che l'uomo fa è di per sé stessa salvifica ogni opera che l'uomo compie è di per sé stessa un'opera che produce la redenzione e quindi si viene di nuovo a creare una fratura tra l'antropologia e la rivelazione una considerava l'umanità lasciava fuori l'umanità l'altra lascia fuori la rivelazione il mistero nel senso stesso perché tutto è dato nella posizione originale ce l'abbiamo tutta dal punto di vista umano tanto che nell'America Latina che cos'era? l'umanità contiene in sé la rivelazione se io faccio la lotta di classe C'è Guevara e Fidel Castro sono più cattolici di me la rivoluzione è ipso facto salvifica la rivoluzione quindi il contenuto della rivelazione è determinato dai fatti più importanti di quell'epoca è determinato dai fatti più importanti dell'epoca quindi una riduzione della novità ad una struttura antropologica allora per essere corretto con Raner il difetto è di tipo filosofico nel senso che costruisce un'antropologia trascendentale sul modello della trascendentalità da Kant in avanti però dal punto di vista teologico afferma che se la rivelazione non ci viene incontro in maniera specifica questo rimane la condizione del cristiano anonimo e non della piena realizzazione di sé ecco allora in questa fase vedete Borghesi dialettizza e interviene e critica questa posizione in una maniera importante perché lì bisogna farla fuori perché questa posizione riduce ciò che ha fatto Primo Mazzolari solamente a fare l'educatore dei poveri come se la salvezza fosse l'educazione dei poveri quella è la salvezza invece Don Primo ha dietro la risposta che gli permette di dialogare con i poveri così si fa fuori facilmente il presupposto perché non è esperienza e quindi rimane solo quell'opera e Mazzolari che parla contro i capellani militari contro la guerra il pacifismo eccetera eccetera ignorando che l'origine il punto forte infuocato è la passione per Cristo nell'uno e nell'altro allora l'affondo che Borghesi porta è proprio del dire l'originalità di Don Giussani e come individuare un punto vivo che rende possibile un dialogo con le domande del nostro tempo e offre una risposta poi c'è un altro aspetto toccato da Costantino che è tutta la polemica sull'integrismo cioè la questione di Maritain di Maritain che nell'esperienza dei nostri amici dell'esperienza di comunione e liberazione è come visto come un aspetto fortemente criticato da tutti e Massimo Borghesi dice non è così ci capiamo peccato che non c'è ma penso che ha pienamente lui dice non è Maritain il punto che Don Giussani contesta ma è un certo maritainismo italiano vedi lazzati e qualcun altro quindi diciamo pur i nomi non abbiamo e quindi è come è come un attacco non al punto cioè la questione di Maritain si riduceva agli interventi dei credenti nella società certo tipo di interventi impegnavano la chiesa in quanto tale certi altri interventi impegnavano il cristiano come cristiano quindi non si impegna tutta la chiesa allora se si fa il partito cattolico non si impegna cioè e lì è la differenza non si impegna la chiesa in quanto tale per un po' di tempo è stato anche così invece Maritain sottolineava che l'intervento nel politico è lasciato alla questione è un'esperienza personale che io sviluppo nelle difficoltà delle domande e delle circostanze degli impegni politici che trovo quindi dicevo che non è la critica Maritain ma un certo maritenismo per cui questa critica e qui volevo fare una domanda che Massimo sviluppa nella critica della teologia politica cioè la distinzione tra teologia politica e teologia della politica perché quello è uno snodo importante perché quando io mi trovo di fronte alla realtà temporale io devo intervenire sulla situazione dell'Ilva io non posso starmene tranquillo e ripetere liturgia catechesi e processioni devo intervenire sulla questione non posso starmene fuori e tutta la formazione che Don Giussani ci ha dato è intervenire però è evidente qui è la luce che Massimo ci offre non è che la soluzione che io do è una soluzione preconfezionata e che esprime la 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 mens cattolica per cui chi non chi sono tentativi ironici a quel punto tentativi ironici di intervenire nella realtà ciò che è è evitato da Don Giussani che Massimo mette in evidenza è come se si dovesse ricostruire a partire dalla fede un blocco ideologico un blocco ideologico e non della gente appassionata nella realtà che non si fa sfuggire nessuna circostanza non perché si va a cercare i problemi ma come posso avere il colosso della della siderurgia italiana e parlare d'altro quando c'è la processione degli ammalati di di cancro e c'è la processione di quelli che perdono lavoro è normale è proprio per quella passione fondamentale della domanda di vita della domanda di vita che mi porta ad entrare ad accogliere ad ascoltare e a indicare cammini percorsi come ci dice Papa Francesco allora il il punto è che una chiarezza ancora su questo aspetto e che poi c'è un altro riflesso nella questione nella questione dei valori dei valori comuni i valori comuni voi non ammettete i valori comuni qui c'è una disputa è chiaro che quando i valori comuni pretendono determinare la qualità della risposta stanno facendo un'operazione sbagliata e cioè allora noi cristiani siamo quelli che difendono la pace difendono l'ecologia difendono i migranti difendono questo questo e quest'altro possiamo e dobbiamo anche farlo io nella conferenza episcopale sto nella commissione per i problemi sociali lavoro giustizia e pace perché questi problemi non 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 ci sono estranei costituiscono il dramma le domande le ansie le attese ma non il nostro compito come chiesa di una commissione della conferenza episcopale non è trattarli come li tratta un sociologo o come li tratta un analista sociale è trattarli come uno che è appassionato alla vita la felicità l'esistenza di tutti in particolare dei più poveri dei più abbandonati ma con quel cuore con quella passione nel trattare il problema devo mettere metto in evidenza quello che mi occupa il cuore quello che mi mi interessa di più quello che mi appassiona e quello che mi appassiona determina una posizione originale sia con gli ambientalisti che mi vogliono tirare alla loro tesi chiudiamo l'ILVA sia gli altri che dice facciamo bene la nostra azienda e basta qual è la posizione è la posizione che la dottrina sociale della chiesa sviluppa dicendo che il bene della persona dell'io non è possibile se non diventa il bene del noi cioè il bene comune quindi c'è una originalità in questa forma è tutto il problema della testimonianza la testimonianza la provocazione che ci viene non è snobbata non 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 mi non mi tocca ma allo stesso tempo è accolta senza che ne diventi una ne diventi un'egemonia e qui il tema è appassionante sopra moltissimi aspetti ma io vedo che per ciascuno di noi anche questo studio portato avanti con rigore con intelligenza ci fa appassionare alla realtà alle sfide che abbiamo giorno per giorno non solo alle sfide politiche alle sfide che abbiamo nella famiglia alle sfide che abbiamo davanti alle malattie alle sfide che abbiamo nelle circostanze quotidiane non è una risposta di tipo politico connotata fuori del mondo politico non vale no vale per la vita di cui il politico è un aspetto è nella esistenza perciò è come un un mette luce sulla risposta gratuita impensata che è successa come un bel mattino e che ci ha conquistato tanti anni fa e che continua a conquistarci grazie io voglio sentire allora in attesa che l'agenzia ANSA diffonda la notizia che Don Filippo scendeva da Capranica per andare alle manifestazioni di Valle Giulia speriamo di no qualcuno sarà qualcuno sarà contento di questo chiediamo a Massimo di farci un piccolo commento alle cose ascoltate e soprattutto ci dica di questo libro perché l'ha scritto e soprattutto gli chiediamo di fare in maniera tale che poi possiamo leggerlo questo libro si si sente allora grazie innanzitutto davvero voglio ringraziare il rettore innanzitutto Eugenio che è qui con noi so che anche il rettore Uricchio voleva venire ma è stato impossibilitato perché a Roma Monsignor Santoro Monsignor Filippo quello che ci ha detto adesso Costantino Esposito Michele Indelicato grazie davvero e naturalmente per le cose che ci avete detto che sono preziose che tengo molto presente grazie per l'impegno anche nella lettura del volume e naturalmente un ringraziamento particolare non posso non farlo a Domenico Viola che si è sobbarcato letteralmente e l'organizzazione di questo bellissimo incontro che penso che Giussani sarà contento di questo omaggio che è stato fatto e che naturalmente merita senza dubbio però so quanto impegno ci ha dato e quindi lo ringrazio davvero insieme a voi e insieme a tutti voi che siete venuti anche da lontano amici e non e persone che non conosco quindi davvero mi colpisce perché ho scritto questo libro due parole brevi ma innanzitutto per un debito di riconoscenza in qualche modo glielo dovevo Giussani mi ha dato molto nella mia vita è stato un grandissimo educatore il mio stesso pensiero beh io insegno filosofia deve tantissime cose che non starò ad elencare tantissimi accenti ma soprattutto nella mia fase universitaria giovanile dei miei studi io ricordo ancora come la lettura dei suoi libri e gli incontri avuti con lui mi spalancassero continuamente orizzonti uno dietro l'altro io peraltro a 19 20 anni non ero cristiano insomma non ero credente quindi l'incontro con lui con la sua storia ha determinato la mia conversione il mio essere cristiano quindi come non essergli grato no e quindi questo libro è stato innanzitutto un atto di omaggio a lui un atto di omaggio dovuto anche al fatto che se mi è permesso dire paradossalmente tra i tanti libri pregevoli preziosi dedicati a questo grandissimo educatore non ce n'era ancora uno che trattasse in maniera sistematica il suo pensiero che tentasse di ricostruire il suo pensiero perché Giussani ha un pensiero e ha un pensiero profondo robusto no ecco questo è stato il motivo per cui ho scritto questo volume per coloro che avranno la pazienza la bontà di comprarlo dico subito che anche per i non specialisti per i non filosofi o teologi perché non tutti dobbiamo essere per forza filosofi e teologi per fortuna e possono tranquillamente leggere le due lunghe appendici finali che sono invece molto leggibili fatte di interviste fatte di articoli che introducono molto bene mi sembra l'autore e ce n'è una in particolare che fa una specie di sintesi della biografia su Giussani di Alberto Savorana che vorrei dire la prima cosa da leggere ecco perché permette di capire qual è la personalità chi è stato veramente Don Giussani come uomo come pastore come sacerdote come educatore quindi permette di avvicinare l'umanità di Don Giussani e prima di affrontare il pensiero bisogna affrontare l'umanità ebbene questo per dire anche una cosa cioè che all'inizio nel caso di ognuno ma nel caso di Giussani in particolare all'inizio non c'è un pensiero all'inizio c'è un accento c'è un patos no? perché un uomo è essenzialmente il suo cuore un uomo non è innanzitutto il suo pensiero noi abbiamo persone molto intelligenti no? che sono totalmente aride non è l'intelligenza che salva l'uomo ma il cuore sì e questo vale per tutti e vale sicuramente anche per Don Giussani no? poi questo cuore deve rendere ragione di sé no? e questo nel caso di Giussani è palese evidente tant'è vero che il sottotitolo di questo volume è conoscenza morosa no? conoscenza morosa mi ha colpito studiando l'avevo notato ma fino a un certo punto poi leggendo con attenzione i suoi testi anche quelli meno letti ho visto che soprattutto negli ultimi anni a partire dagli anni ottanta in avanti dalla metà degli anni ottanti in avanti Giussani insiste sulla conoscenza amorosa non basta conoscere ci vuole una conoscenza affettiva una conoscenza che nasce dal cuore e che ritorna al cuore perché il cuore è il fattore che ti lega alla realtà perché noi mentre la mentre la ragione astrae dalla realtà il cuore ti riporta dalla realtà io guardo la televisione vedo un terremoto vedo un attentato terroristico ci siamo purtroppo abituati spegniamo la televisione continuiamo la scena ma se ma se lì c'è un mio amico se lì c'è qualcuno che io conosco che io amo è diverso io immediatamente ho la percezione della realtà il cuore mi riporta sulla realtà quindi la conoscenza affettiva la conoscenza per essere reale deve essere affettiva in questo senso quello che Giussani voleva era un pensiero esistenziale no? Costantino ci diceva prima giustamente che per la sua formazione Giussani era certamente molto attento a valorizzare la lezione di Tommaso no? e però è vero anche che il suo Tommaso è un Tommaso che non si oppone ad Agostino è un Tommaso anzi che richiede Agostino cioè richiede il grande dottore cristiano dell'affettività del cuore no? nulla rimane se non c'è un ideale che diventa carne che diventa affetto che diventa cuore che diventa storia questo è un pensiero no? Giussani fu tre cose contemporaneamente fu un grande intellettuale ed è l'aspetto forse meno evidenziato fu un umile parroco in una fase della sua vita e fu un grandissimo educatore a partire dal 1954 in avanti queste tre dimensioni vanno tenute presenti tutte e tre tutte e tre vanno tenute presenti la biografia di Savorana permette certo è un'impresa ciclopica sono più di mille pagine quindi non è uno scherzo però almeno la prima parte della sua vita che è quella meno nota varrebbe la pena per chi è curioso di questo intellettuale cosa significa intellettuale Giussani teneva moltissimo alle sue radici spesso anche dentro il movimento che lui ha fondato come accade spesso in queste cose rispetto ai fondatori sembra quasi un meteorite no? no Giussani ha una storia alle spalle Giussani viene dal grande seminario teologico di Venegono in Lombardia che tra la metà degli anni trenta e la metà degli anni quaranta quando lui ha studiato teologia per tanti anni ebbene era il principale seminario teologico in Italia quello che aveva il dei teologi di primordine che diventeranno poi cardinali i vescovi di Milano consiglieri teologici di Paolo VI abbiamo il meglio della teologia italiana Giussani viene da una grande scuola io mi ricordo un mio caro amico sacerdote che è venuto a mancare troppo presto che mi diceva appunto questo lui stesso aveva studiato a Venegono e mi diceva come Giussani tenesse a Venegono ma diamine questo è importante se si vuol capire una formazione di un uomo bisogna andare agli studi ai maestri che ha avuto hanno inciso tutto questo ebbene in quegli anni lui studia Newman il grande Newman il convertito inglese quello che apre al concilio Vaticano secondo come prospettiva no? studia un tomismo aperto cioè il pensiero di San Tommaso ma non in maniera ottusa il tomismo di Venegono è un tomismo cristologico fondato su Cristo e tutta la scuola di Venegono già precorre il concilio Vaticano secondo no? per farvi un'idea breve di quali apporti ha avuto Giussani a Venegono vi cito un brano breve di uno dei suoi maestri che era per lui il vero maestro a cui Giussani era affezionatissimo si chiamava Don Eugenio Corti vi leggo un brano di Don Eugenio Corti quando io l'ho letto ho detto ma questo non è Don Eugenio questo è Giussani no è Don Eugenio Corti dal mio libro è a pagina 96 dice Corti riguardo alla conoscenza di Cristo dice per conoscerlo nella sua concreta personalità storica deve in un certo modo frequentarlo Cristo come l'hanno frequentato gli apostoli ed i primi discepoli che hanno tratto da questa esperienza diretta la loro fede in lui anche oggi un uomo per credere in Cristo deve ripetere in certa maniera misura l'esperienza dei primi suoi discepoli deve come loro sentirlo parlare vedere agire operare miracoli piangere soffrire morire risuscitare salire in cielo in tal modo egli penetrerà poco a poco nell'anima di quell'uomo che si chiama Gesù entrerà nel mondo intimo dei suoi pensieri e dei suoi sentimenti come vedete è una pagina di Giussani ma è una pagina di Eugenio Corti Eugenio Corti che lo aspettava la sera nel freddo seminario di Venegono durante gli anni del 45 e 46 quando non era possibile nemmeno accendersi la stufa e Giussani andava fuori tutto il giorno in bicicletta a fare il parroco il vice parroco e lo aspettava per suonargli Mozart e dirà a Giussani è una delle più è la manifestazione più grande di amicizia che io abbia mai avuto intellettuale dicevamo una passione intellettuale nata a Venegono nata sui testi e sui maestri di Venegono da questo punto di vista quando lui decide di andare a insegnare ai ragazzi del liceo Berset di Milano nel 1954 è una rottura dolorosa per lui io non l'avrei immaginato ma leggendo la biografia di Savorana è evidente lui voleva fare la carriera accademica voleva già insegnava nel seminario teologico i suoi superiori avevano investito su di lui era il più brillante era destinato a diventare un grande maestro di teologia e lui lascia tutto perché sente l'urgenza di andare a comunicare Cristo a questi ragazzi che già nel 54 non sanno più nulla di Cristo anche se frequentano l'azione cattolica ma per lui è una scelta dolorosa lo si capisce da tante cose che dice lasciare quei libri non potersi più dedicare allo studio poi lo riprenderà in qualche modo quando ritornerà a insegnare all'università cattolica di Milano insegnando teologia alla cattolica avrebbe preferito filosofia della religione ma comunque i suoi libri non li ha scritti non ha avuto più tempo i suoi libri non sono altro che il risultato delle sue lezioni che discepoli attenti hanno poi risistemato e li hanno fatto diventare dei libri non ha avuto più tempo di scrivere un libro seconda dimensione parroco confessore passava ore e ore dentro il confessionale è la fase della metà degli anni 40 poi si ammala di broncopolmonite mi pare sta due anni quasi e si sente inutile e si sente perduto e si sente triste perché anche questo è importante quest'uomo ha attraversato la malinconia la tristezza non è soltanto il gagliardo e potente voce che molti hanno ascoltato che sembrava non avere tentennamenti ha sofferto nella sua vita e mi ha colpito nella biografia di Savorana che avesse una devozione del tutto particolare al Cristo crocefisso tant'è vero che nella sua mi pare proprio nel santino della ordinazione c'è un Cristo crocefisso se ricordo bene quindi anche questo è un Giussani più segreto più mistico meno noto ma importante parroco e confessore è importante che non sia soltanto stato il teologo o il maestro di scuola è importante per un prete che sia stato anche parroco che abbia conosciuto davvero l'anima delle persone che le abbia condivise che abbia condiviso il peccato e la grazia il peccato e la misericordia sappiamo tutti come l'ideale di Papa Francesco è quello del parroco perché nel parroco viene fuori quando si immerce nella carne della sua gente viene fuori davvero l'umanità fino in fondo e quegli anni di esperienza di parroco secondo me hanno inciso molto nella personalità e nella formazione di Giussani non è mai stato un intellettuale arido era un intellettuale che si portava dietro il volto e anche nel senso religioso mi ha colpito io non lo sapevo che l'episodio lì del del ragazzo come si chiama del di quello che nella divina commedia Capaneo di Capaneo che sfida Dio quando Giussani nel senso religioso dice ci sono due posizioni o la bestemmia o la rivolta o la grazia e cita il Capaneo dantesco leggendo la biografia di Savorana ho visto che il Capaneo era un ragazzo che era andato da lui a parlare ed era violentemente contro la chiesa contro i preti contro la religione e quando e questo ragazzo gli aveva detto Luigi si chiamava si chiamava Luigi gli aveva detto la mia posizione è quella di Capaneo e Giussani gli aveva detto ma non è più bello più grande chiedere no e sto ragazzo se n'era andato e e poi era tornato dopo qualche mese era tornato e diventano amici e questo Luigi gli dà del tu che allora del tu al prete e diventano amici e dopo qualche mese muore in un incidente di motocicletta destino tragico e Giussani rimane colpitissimo perché gli voleva un bene dell'anima a questo ragazzo ebbene Capaneo nel senso religioso dietro c'era Luigi questa è la è la è la posizione educatore la passione la terza figura la passione intellettuale al servizio dell'incontro cristiano e in qui si colloca il rapporto tra cristianesimo e modernità Monsignor Santoro ha detto bene per Giussani il cristianesimo doveva intercettare la sensibilità moderna due minuti e terminiamo diamo due minuti due minuti e terminiamo no gli autori di riferimento a me ha sempre colpito questo si chiamano Giacomo Leopardi e spesso anche Cesare Pavese ma perché un prete di quegli anni si fa venire in mente Leopardi e Pavese invece di citare l'ecclesiastico di turno o lo stracattolico di turno cioè cita un ateo Leopardi perché lui stesso era rimasto colpito le domande di Leopardi erano le sue al liceo questo uomo aveva una sensibilità esistenziale moderna così forte proprio perché era stato colpito da quelle domande sul senso della vita del dolore della morte ed è lì che lui capisce che Cristo è la risposta dirà non sto a leggerlo non abbiamo tempo no ma dirà letteralmente che la sua avventura culturale è iniziata quando ha capito la frase di Giovanni il verbo si è fatto carne e come l'ha capita quella frase l'ha capita mettendola in rapporto con Leopardi che amava perché quello che Leopardi attendeva era che il verbo si facesse carne non idea astratta ma carne e che quindi il senso del mondo potesse condividere il dolore la morte la gioia la vita la felicità degli uomini questa era l'unica risposta che poteva rispondere a Leopardi da qui nascono le categorie del suo pensiero che non posso qui delineare chi lo vuole naturalmente sono tre le indico soltanto senso religioso incontro o avvenimento esperienza dico solo che queste concetti che a noi sembrano quasi normali negli anni 60 70 erano in odore di eresia erano concetti modernisti che nella teologia non trovavano campo perché erano troppo soggettivistici perché rischiavano di portare in una chida troppo moderna tant'è vero che Giussani quando lo usa si rivolge a Ratzinger negli anni 80 e 90 che era allora la dottrina per la fede chiedendo se era ortodosso mi viene da ridere come spesso Giussani viene accusato di essere iper ortodosso di essere così e lui aveva il problema se era ortodosso nell'uso di queste categorie tutto questo riportava alla prospettiva che è stata suggerita anche da Costantino esposito come duemila anni fa no la modernità stava nel fatto che la verità non può essere proposta se non passa attraverso la tua certezza se non passa attraverso il fatto che tu che tu ti rendi conto che è vera che è vera per te per la tua vita per il tuo cuore per la tua ragione il cristianesimo è vero per l'uomo moderno solo se l'uomo moderno come dire ha la possibilità di sperimentarne la verità non è una pietra che ti cade sulla testa e che tu devi accettare passivamente per obbedienza tu devi essere convinto e allora il cristianesimo può diventare vivo solo se diventa un'esperienza vivente se diventa un'esperienza come tale da dove nasce tutto questo patos no l'abbiamo detto nasce da una percezione visiva filmica evidente esistenziale che Cristo era presente ed era reale permettetemi di leggere solo due righe e con queste terminiamo sono al termine dell'introduzione a pagina 20 dice Giussani in una sua intervista in una sua articolo quello che sentivo e vedevo era come un modo nuovo non intuito prima se non nei testi dei padri e in quelli papali questo accorgermene nasceva da un'esperienza le stesse parole del Vangelo e della tradizione le leggevo in un modo nuovo io capivo e d'altri con me che Cristo era lì presente grazie grazie a tutti segue subito il concerto feriti dalla bellezza del maestro Marcello Cesena e ringraziamo il consorzio Icaro che ha permesso questo momento grazie ne va la pena questo concerto è molto bello per chi può anche perché poi non durerà moltissimo purtroppo per l'orario ci possiamo mettere di là grazie a tutti 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 buonasera buonasera è un'onore a essere qua con voi questa possibilità di incontro e condivisione mentre ero qua e mi preparato per entrare pensavo cosa c'entra un concerto delle musiche con il monstro la prima parte del contro è un'onore di una paura è un'onore di un'onore di un'onore di un'onore di un'onore la bellezza, c'è un uomo, la bellezza, la bellezza di Cristo, e per lui, educare la bellezza, educare la bellezza, educare a fuori del Cristo, per quello è così importante. Oggi vorrei, come un libro, un album di fotocasie, vorrei condividere con voi alcuni commenti della mia vita dove la tutta è sentata un'ultima, dove la tutta mi è parlato. Per esempio, con questa musica, una musica naziana, signor Lodeo, la nostra musica che devo fare è che ho fatto, scritto, ispirato dall'attività. Primo, dall'offresso dell'attività, anche per il riscontro. E ho potuto, perché nel stesso anno, andate da Tampulia, qui, qua, da Tampulia, Francesco e Rubino, siamo andati all'interno. E ho potuto vedere, toccare, quando abbiamo andato nel posto, dove la professione, dici qua, è andato Gesù. E l'epo mostro, subito, vedete quanta gente della vita, non da aspettare per poter andare lì, però la preghiera, vedete l'avanti, c'erano cristiani, ortodossi, i napolici, i protestanti, c'erano musulmani, c'erano la crema, sono tanti genitori. Però, ho pensato, ma con è la grotta del mondo, in senso scherzi, qua in Italia con le grotte molto belle, non è un nuovo guardato alla nascita di uno Dio, o di meno, perché gli dici, io sono Dio. Quando viene il scanto, uno dice, io sono Dio, quello è il mio, ha detto, io sono Dio. E quello è il scanto, è vivo oggi, perché la grotta di oggi, dalla pietra, fatta, no? Dio, la vicenda per le voce, la voce è pietra di questa grotta del vostro cuore, e il cuore è la loro grotta, è la loro grotta di me. Siamo andati a volare, a costruire questa presenza tragica, di vita, di mio nome. Questo angogeneo che ho scritto, è una mia nata, è questa naturale, questa presenza di vita, di mio nome. Grazie. 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 Ma... Assento! Voglio chiedere un piacere vuoi scrivere una musica? Per fare una sorpresa mio amico facciamo cinquanta anni di esposarmi facciamo una bella festa o un piano a casa e puoi fare una serenata e magari puoi scrivere una musica per festeggiare e salvare questi cinquanta anni io non conoscevo le storie domani, guarda un po' di informazioni mi ha dato una lettera così grande di tutti i formassoni si sono conosciuti di morte noi abbiamo iniziato a scrivere questa musica quindi scriveremo leggerlo queste lettere mi vediamo di meglio di questo quante cose questi due hanno fatto insieme per cinquanta anni colazione cena, pranzo portare i bambini in scuola per le scuola a casa aiutare i bambini portare i bambini del dentista del dottore qualcuno nasce qualcuno muore si litiga a queste scuse tutti i giorni facciamo male ogni giorno un po' di diverso però alla fine un grandissimo mosaico ogni giorno come si dice il tassello il tassello il tassello di un mosaico quel giorno il campo nero diventa il capire diventa gli occhi un mosaico quando manca un tasco il tassello manca si vede la vita è un bellissimo mosaico mi è venuta la domanda ma chi è? chi è? in tutte queste imprese e trasforma la nostra vita in un mosaico lo sanno grazie maggiore Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.